C'è c'è nella mia, si pone bella Seminari che sto organizzando e che sono già anche su Facebook, nel gruppo passo per passo Ho fatto gli, ho creato gli eventi Allora, i seminari che andremo a fare sono tre Allora, il primo è quello del Carpo Brotus edulis Questa è una grandissima, se vogliamo, novità Una delle ricette più antiche al mondo Una delle piante esistenti al mondo Forse le più vecchie perché si parla proprio che era una pianta utilizzata dagli Ottentotti Quindi un popolo dell'Africa meridionale Questa conferenza è un seminario, perché conferenza è un seminario gratuito Quindi vi aspetto numerosi, va bene per tutte le persone che hanno un diploma in naturopatia Possono venire nei medici, chiunque ha a che fare con, come si dice, pratiche olistiche Ma non solo, chi è curioso e volesse venire a conoscere tutte le proprietà del Carpo Brotus edulis Potete venire il 30 maggio a Lucca Siete ospiti a casa mia Verrà proprio mentana, la signora che ha studiato per tanti anni questa pianta E che è riuscita a farsi riconoscere il brevetto E a far riconoscere il Carpo Brotus edulis E' una pianta, diciamo, officinale E' una pianta che ha le stesse caratteristiche dell'Aloe Però è superiore, secondo noi E' commestibile, a differenza invece dell'Aloe E si può anche mangiare Infatti questa pianta viene utilizzata anche per fare le paste Per fare le tisane In più, mi sono arrivati ieri i prodotti campione Sono rimasta contentissima Si parla di un gel contro tutte le problematiche della pelle Ma veramente tutti gli eritemi, gli arrossamenti, la psoriasi, i tagli, le squamazioni Tutto quello che ha a che fare con la pelle L'acne, ora piano piano mi vengono in mente tutte E' idratante, è lenitiva E poi c'è un piccolo gel che viene messo in questa zona qua Fa un bellissimo antirug Praticamente c'è un acido ionotico all'interno naturale Vi posso assicurare che mi sono sentita Tirate Ora faccio un bel trattamento e fra un po' mi rivedrete ringiovanita I miei 40 anni diventeranno presto 32 Va, leviamoci 8 anni Ehm... Poi c'è un'acqua, invece spray Ora non c'ho da farveli vedere perché sono in un altro studio Io non sono a casa C'è un'acqua spray che può essere utilizzata anche sui capelli Rinforza le radici Dà lucidità al capello Lo permea E dà anche... idrata tutta la parte del cuore capelluto Sempre per tutte quelle persone che hanno un problema Eh... di descumazione della pelle Di secchezza della pelle Di caduta dei capelli Quindi un capello molto molto debole E' uno spray che si può utilizzare sul viso come tonico Sul collo, su tutta la parte del corpo Insomma... sono contentissima Io vi aspetto a questo seminario Del Carpo Brotus Edolis Il 30 di maggio Dalla mattina alle 10 alla sera alle 6 e mezzo Il pranzo è offerto da noi Cuscina Mentana Fa una buonissima pasta a base di Carpo Brotus Edolis E ci farà assaggiare e far provare tutti i prodottini Qualcosa avrete anche in omaggio Se volete partecipare E' importante perché il pranzo è offerto da noi Aspettate un attimo Ecco... mi riprendo il discorso Quindi se volete partecipare Andate nel gruppo passo per passo Cercate l'evento del Carpo Brotus E mettete la vostra partecipazione Qualsiasi informazione in più Qualsiasi nota, qualsiasi cosa Me lo fate sapere mettendo i commenti al di sotto Lasciando i vostri numeri di telefono Sennò potete telefonarmi o scrivermi direttamente Tutti i miei contatti li trovate Sia sul passo per passo Ma anche sul sito www.lechicchedinaturopatia.com Va bene? Vi aspetto!